carissimi amici buona giornata a tutti ecco sono qui a invitarvi a due appuntamenti importanti per la nostra vita di comunità il primo appuntamento alle ore 9 qui diretta presso la cappellina del oratorio san mauro la preghiera delle lodi questa domenica sarà l'ultima domenica in cui celebreremo nel tempo di quaresima le lodi del mattino perché dalla domenica successiva inizieremo a vivere la settimana autentica la settimana santa e di lì celebreremo la messa della domenica delle palme poi mercoledì sera ci sarà sempre la messa il giovedì venerdì il sabato santo saranno celebrazioni proprio quelle più importanti per la nostra vita di fede il secondo appuntamento è alle ore 11 di domenica la messa col nostro arcivescovo dove da questa settimana non sarà più in diretta su re 3 ma potrete seguire dal canale 195 chiesa tv ecco l'invito a questa settimana il compito che voglio affidarvi è quello di cercare tra i vostri ricordi il momento più importante della vostra vita all'interno della comunità pastorale qualcuno mi ha chiesto ma dal 2009 in poi no no anche prima l'importante che sia un momento bello che ha fondato la vostra fede in oratorio in parrocchia ecco queste foto dovranno essere inviate alla mail intenzioni punto regina degli apostoli fiocciolaginail.com entro le ore 15 di martedì prossimo ecco questo è l'invito che voglio farvi e per questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente ciao grazie a tutti